Pietro Infantino, appena 30 anni e rieccoti a Gela, rieccoti al Vincenzo Presti, quale emozione? Tantissima, ritrovare dei vecchi amici come Giacomo che abbiamo giocato assieme, ma l'emozione è quella di arrivare in una piazza importante, io ringrazio la società che mi sta dando questa opportunità di tornare a Gela, una piazza ambita da tantissimi allenatori, sicuramente non me l'aspettavo, era una chiamata inaspettata perché so che l'amico Totò ha fatto bene, ho questo compito come gli altri anni sempre di subentrare allenatori che hanno lasciato una striscia, io faccio il mio mestiere e lo faccio con grande professionalità, con grande impegno, poi il campo è quello che dà il giudizio finale. Ti sei informato in questa settimana della grave crisi dalla quale il Gela sta uscendo? Sì, mi informavo perché a parte Alessandro che ha giocato con me e Maurizio era con me all'Atleto Catania, sicuramente è una piazza dove ho passato un anno bellissimo, mi dispiaceva la posizione che stava attraversando, soprattutto il presidente Angelo Tuccio che conosco da tantissimi anni, è una persona che ha speso tantissimo per Gela, però ero convinto e sicuro che questa persona non lasciava questa bellissima città senza calcio. Senti, cosa ti hanno chiesto la dirigenza come progetto e come obiettivo di raggiungere quest'anno? Mi hanno chiesto quello che so fare, con tantissima umiltà, io credo che l'obiettivo principale è quello di sistemarci, quello di onorare questa maglia perché credo che il blasone si deve rispettare, la storia si deve rispettare, come dice il presidente ho sentito un'intervista, l'ultima intervista che ha fatto il presidente parlava di appartenenza, l'appartenenza è su tanti fronti, l'appartenenza è per la maglia, l'appartenenza è per la storia della città, l'appartenenza è al compagno vicino, questo senso a me lo uso tantissimo nel mio spogliatoio, mi ha fatto piacere che è un caposaldo del presidente, mi hanno chiesto di riorganizzarci e di cercare di fare bella figura in questo campionato che è difficilissimo.